La sicurezza prima di tutto. I nostri prodotti sono testati per assicurarti i giusti livelli di vitamine, minerali e fitonutrienti, senza coloranti, aromi, docificanti o conservanti artificiali aggiunti. Il packaging preserva i nutrienti essenziali e protegge gli integratori alimentari, così niente e nessuno potrà alterarli durante il percorso. Dal seme all'integratore, fino a te, tracciamo l'intero percorso dei prodotti, così che tu possa compiere scelte sicure e consapevoli.